Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Mirta Merlino è pronta a fare il suo ritorno con Pomeriggio 5, portando con sé molte novità per questa nuova edizione di cui si sente una vera padrona di casa. La conduttrice sarà di nuovo al timone del programma Mediaset a partire da lunedì 2 settembre. Nonostante la scorsa edizione non sia riuscita a superare lo share del rivale Alberto Matano con la vita indiretta. L'anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un'esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto il mio programma e mi sento a casa, ha dichiarato Mirta Merlino a TV Sorrisi e Canzoni, parlando della nuova edizione che sarà ricca di grandi novità. Non ci saranno grandi stravolgimenti, ma solo qualche piccolo cambiamento. Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace, al centro ci sarà un segno, un oggetto attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose, ha spiegato la conduttrice, aggiungendo che il talk show punterà molto sul ruolo delle donne nella società. Mirta Merlino ha anche sottolineato che continueranno a parlare di violenza e femminicidio, ma anche di battaglie civili e della capacità di reagire che hanno le donne. Tra gli ospiti fissi della nuova edizione ci sarà Eleonora Giorgi, con cui Mirta Merlino ha instaurato un rapporto di amicizia sincero. Ci sarà più spazio per le esperienze umane piuttosto che per le opinioni. Sono molto incuriosita dagli altri esseri umani e non mi piacciono gli opinionisti un tanto al chilo, ha sottolineato la conduttrice, che ha aggiunto di voler continuare a parlare.